I tifoni ti hanno fatto l'ostrisione, hanno detto altre 500 partite, se giochi così è probabile. Magari, magari no. No, oggi è andata bene, abbiamo fatto una bella partita. E' che quando andavo in battuta da Nimir era un problema. Non è che siamo scarsi noi di ricezione, è di forte in battuta, quindi ci ha creato dei grossi problemi. Siamo stati molto bravi a tenere di testa e a continuare a giocare. Bravi anche a non perdere l'occasione perché avete sprecato qualcosina nel finale, specialmente di quarto setto, ma siete riusciti però a risalire. Beh, ma sai, quando giochi sempre punto a punto devi rischiare qualcosa. Quindi abbiamo rischiato, diverse volte ci è andata bene, alcune volte male, però abbiamo fatto una grande partita. Per quanto ti riguarda, sei rimasto fuori qualche parita per infortunio, sei rientrato a Latina a parita iniziata, hai dato un segnale molto importante. Quanti stasera è un'altra grande prova? No, oggi è sicuramente andata bene. Ho avuto un piccolo infortunio che mi ha tenuto fuori per due o tre settimane, quindi ancora devo riprendere un po' la forma. Però oggi stavo bene e Bara mi ha servito abbastanza, quindi se le cose vanno bene, meglio. Grazie. 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 Grazie.